Andrea, tanto hai avuto modo di assaggiare questo nuovo campionato, qual è la tua impressione? È un campionato sicuramente molto difficile, bisogna prepararsi bene per affrontarlo nel migliore dei modi purtroppo la prima partita non è andata benissimo, però con il duro lavoro durante la settimana sabato scorso abbiamo raggiunto un buon risultato contro il Bibbiena e l'unica cosa da fare è continuare così e dare il massimo agli allenamenti e alle partite perché possiamo fare bene ed è un campionato impegnativo Infatti voi ci mettete tanta passione, tanta entusiasmo, tanti impegni Sì, la passione e l'entusiasmo sono le cose fondamentali per riuscire a fare bene senza di quelle non si va da nessuna parte, non solo nel calcio ma in tutto Poi il ruolo del portiere è quello più delicato? Diciamo che le responsabilità sono abbastanza alte perché come si dice di solito dopo il portiere non c'è più nessuno sicché gli eroi del portiere possono essere quasi fatali per la squadra mentre se sbaglia un centrocampista, un attaccante si può sempre rimediare Con il Ponte Aseudo ho visto anche molto partecipare a guidare i tuoi compagni di repante questo qui è importante? Sì, cerco sempre di fare il mio meglio, di aiutare i compagni al massimo perché per risultare anche buoni risultati bisogna anche aiutarci a vicenda E lavorare in campo, studiare la maglina Sì, e lavorare in campo naturalmente, è la cosa più importante Grazie